Le ordinanze di custode cautelare in carcere sono state eseguite stamattina dalla Polizia di Stato, dalla squadra mobile di Napoli, su mandato della Procura della Repubblica di Napoli e ovviamente del GIP presso il Tribunale di Napoli. Abbiamo aggredito e disarticolato un pericoloso clan che da anni aveva sottoposto a estorsioni a tappeto alcune zone della città di Napoli, in particolare la zona del Vomero e della Renella. Sono clan federati che oltre all'estorsione hanno consumato vari reati, quali la turbativa d'asta, che hanno consumato reati che hanno a che fare con il riciclaggio e ovviamente l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Questa operazione ha disvelato un'attività massiva di controllo del territorio che si è sviluppata sostanzialmente su tutta la zona che viene definita la zona degli ospedali di Napoli.